Vittorio Cecchi Gori Valeria Marini a pomeriggio 5, Cecchi Gori? Il peggio è passato Come sta Vittorio Cecchi Gori? Parla Valeria Marini a pomeriggio 5. Migliorano le condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. A confermarlo Valeria Marini, intervenuta telefonicamente in diretta a pomeriggio 5. La showgirl Sarda ha rivelato di essere in contatto costante con l'ex fidanzato e che il produttore cinematografico, nonché ex presidente della Fiorentina, è assolutamente fuori pericolo. Al momento Cecchi Gori è ancora ricoverato al Gemelli di Roma dove la mattina di Natale è stato trasportato d'urgenza dopo essere stato colpito da un'ischemia cerebrale. Vittorio è stato ricoverato nel reparto di rianimazione ed è stato alcuni giorni in coma farmacologico. . Oggi il peggio è passato ma l'uomo resta sotto osservazione, la sua riabilitazione sarà lunga e intensa. . Valeria Marini sempre accanto a Vittorio Cecchi Gori. Per fortuna il peggio è passato. Vittorio sta meglio ha assicurato Valeria Marini da Barbara d'Urso. . Quest'ultima, per la prima puntata del 2018 del suo programma pomeridiano, ha dato ampio spazio alla malattia di Cecchi Gori ma pure alla morte di Marina Ripa di Meana. . . Sono vicino a Vittorio e tante gente mi chiede del suo stato di salute. . Tutti gli vogliono bene ha spiegato la star del bagaglino, tra le prime a scoprire di quanto accaduto all'ex fidanzato. . . Vicino a Cecchi Gori anche l'ex moglie Rita Rusi che, appena presa la notizia, ha lasciato Miami per fare rientro in Italia. .